Ciao a tutti questi anzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a fare il secondo episodio di vita da ranger buona visione quella mattina linda era pronta già molto presto era ansiosa di andare nella foresta sperduta o come l'aveva chiamata alunzo forza bravo bello veloce veloce era molto presto erano le 7 di mattina il corvo era ancora mezzo addormentato nella sua borsa da sella gira honey spero di essere arrivata presto o in orario ecco e ciao non so ciao olivia allora si parte per le scu... per le... per... ciao scusa sono un po' stanca forse per l'esplorazione senti l'in... livia l'esplorazione è saltata cosa per quale motivo beh è saltata perché ecco noi... noi cosa abbiamo scoperto che ci sono già dei rangerli ah non è inesplorata allora no ci sono già e poi molti avevano paura di perdersi durante il percorso è un percorso di montagna veramente difficile solo per gli esperti ma io ho fatto un sacco di gare di orientamento proprio per questo lo so lo so olivia ma... oramai l'escursione è saltata oh beh io ci vado da sola no olivia è pericoloso anche per te ferma 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 livia ferma salta io ci voglio andare lo stesso aspetta è quella la strada... foresta selvatica forza no bella... no bello... buono bello su... andiamo... non sarà poi così male eh attento ai rampicanti no tranquillo tranquillo bello sono solo rampicanti sono solo rampicanti non sono... e non si muovono come nei film di fantascienza perciò... tranquillo oh avevano ragione forse dovremmo tornare indietro forse potremmo perderci come avevano detto loro no ma un ranger non si arrende mai forza attenzione attenzione ok qui c'è già un po' più urbanizzato salta la radice niente male come salto bello ok saliamo qui che lungo viaggio però è anche bello no? honey non credi sia bello? oh attenzione potrebbe essere pericolante meglio sorpassarlo al trotto oh altri cartelli guarda foresta selvatica dundul ok allora andiamo per la foresta selvatica come l'avevo chiamata stamattina? inesplorata ma... certo come no se ci sono già dei ranger ok oh mio dio guarda che bello honey guarda che bellezza andiamo subito a esplorare hai visto honey? ne avvalza la pena punta redwood dovremmo seguire quel cartello? beh proviamoci c'è anche un sentiero che carino oh guarda ecco una ranger ehi ciao oh oh mio dio mi ha messo paura scusami allora io ti volevo dire io sono qui perché beh sono la ranger di jorvik e beh ok si è voluto togliere dalla borsa della sella finalmente aspetta so chi sei e come fai a saperlo? tu qui sei una leggenda sei livia vero? si ma come sono una leggenda? si hai superato un sacco di prove hai fatto non così tante fidati tu sei una leggenda beh ok certo volevo conoscere un po' il posto sai volevo fare queste cose qui si certo conosci pure tutti sono lieta di chi ho non scerti ah io sono astrid beh grazie astrid ci vediamo ok ehi ciao oh mio dio no no tu non può essere si sono olivia ma perché sono una leggenda da queste parti? perché 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 sei la migliore ranger di jorvik che sta a dundul davvero? lo credi? si io sono josef comunque eh piacere josef ma il migliore ranger non è alonso alonso si è unito da poco alla confraternita ma anche io io dopo di lui addirittura sì ma tu sei migliore hai più portata hai più portata sì ma me l'ha insegnato lui tu sei più portata te lo ti dico anche se ti ha insegnato lui ok josef che bel recinto ehi ciao io sono chi era? ah ciao io sono livia sì piacere di conoscerti ehi se vuoi fare un giretto riferisciti pure a me eh eh va bene un giretto per cosa? per la foresta intendeva forse oh no non dirmi Rowan oh mio dio Olivia quanto tempo infatti e come sta il tuo bel fjord? bene bene ma tu che ci fai qui? non eri andato no va bene sono rimasto ranger e adesso resto qui a punta Redwood oh beh niente male grazie per l'informazione quel giorno livia era felice voleva restare tutta la notte e tutto il giorno ehi livia si ti era? vuoi restare qui? ehm si io vorrei restare qui un po' anche per stanotte se è possibile si come puoi vedere lì c'è Daphne oh ehm si ciao Daphne ciao lei è un ospite qui al nostro ehm diciamo mini ranch ah si? non lo sapevo ok perfetto allora posso restare ospite fino a domani? si certo e domani puoi fare un'escursione per qui in giro è bellissimo il posto lo sai? oh ok per me va bene molte bene questions il video finisce qui spero vi sia piaciuto e in quel caso mettete like e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao